Una consulenza tecnica sul mezzo dal quale lo scorso 8 ottobre è precipitato, perdendo la vita a distanza di 24 ore, Alessandro Nofrio, 28 anni, di Faicchio. L'ha affidata ad un ingegnere, il sostituto procuratore Flavia Felaco, che dirige l'inchiesta per fare luce sul drammatico incidente sul lavoro avvenuto a Benevento, lungo il viale Atlantici, dove l'uomo stava lavorando per conto di una ditta di Castelvenere, al ripristino dei cordoli di alcuni balconi e della zoccolatura al terzo piano di un palazzo. Il ragazzo, al pari di un collega di 37 anni di San Lorenzello, era caduto dal cestello che si era ribaltato. Attenzione puntata dunque sul braccio sollevatore della piattaforma mobile, che si era spezzato facendo precipitare nel vuoto per 7 metri i due malcapitati. Entrambi erano quindi stati trasportati all'ospedale Sampio e giudicati in prognosi riservata, più gravi le condizioni di Alessandro, il cui cuore aveva poi smesso di battere per sempre nel giorno in cui era atteso dalla promessa di matrimonio alla sua fidanzata.